slow food di grottaglie sostiene l'ucraina visto quello che sta succedendo voi sapete tutti sapete che è una tragedia questa questa guerra da qualunque parte venga le guerre non dovrebbero esistere più non dovrebbero cioè fuori fuori dal tempo fuori dal mondo le cose si possono sempre concordare studiare c'è la diplomazia detto questo noi come bottega come grottale bottega vestita stiamo sostenendo questa iniziativa abbiamo donato due colombe un colombino e una colomba la colomba mamma la colomba è il simbolo di pace voi sapete che da millenni da sempre la colomba rappresenta questo simbolo di pace per cui vi invito tutti tutti a chi ha possibilità di sostenere questa iniziativa donate perché è importante è un segno veramente di buon cuore di buon cuore verso questa questo popolo che sta soffrendo